Alice Mariani quando danza sembra che voli, tanta è la grazia e la potenza, proprio come il Pegaso, simbolo della terra toscana, la sua terra, che le ha visto muovere i primi passi nel mondo della danza. Classe 1992, Massese, Alice Mariani è la nuova prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Dopo anni di studio e lavoro sui più importanti palcoscenici del mondo, oggi è arrivata la consacrazione nell'Olimpo dell'Etoile. Per celebrare questo successo che riempie d'orgoglio tutta la Toscana, il Consiglio regionale le ha conferito il suo massimo riconoscimento, il gonfalone d'argento. Sono davvero onorata di essere qui e di ricevere questo riconoscimento così importante da parte della mia regione toscana, che è una regione che ho sempre amato e adorato, nonostante tutti gli anni all'estero. I primi passi sulle punte Alice Mariani li ha mossi alla scuola Lorna Wichelson a massa, poi lo studio all'Accademia della Scala e per dieci anni alla sempre Robert di Trest, l'anno scorso il rientro in Italia e infine la consacrazione del palco della Scala. È stato un percorso travagliato il mio perché sicuramente ho fatto tanti anni fuori, sono andata via di casa molto presto, avevo 13 anni, quindi ero molto piccola, sono andata a Milano e poi all'età di 18 anni mi sono trasferita in Germania. Pensavo fosse una piccola esperienza all'estero invece è durata dieci anni, quindi insomma è stata abbastanza lunga, però il mio desiderio è sempre stato quello di tornare e quindi l'essere qui oggi nel mio paese al Teatro alla Scala con questa nomina di prima ballerina davvero mi rende una persona fortunatissima e felicissima. Alice Mariani è un'artista toscana capace di ispirare le nuove generazioni del mondo della danza con la sua storia felice fatta di talento e duro lavoro. Per me la caratteristica principale per il nostro lavoro è la tenacia, nonostante il talento sia importante perché sicuramente il talento è la prima cosa che si vede, prima caratteristica che si vede in una piccola ballerina, però la tenacia, la perseveranza nel nostro lavoro, lavorare ogni giorno non è facile e avere questa dote aiuta nel raggiungere gli obiettivi più ambiti.